e guarda direttamente, prendi un obiettivo come riferimento, vai, controlla gli occhi, cerca di dare il colpo di caffè di pasta. Bene, proviamo così, guarda. Grazie. Ecco Cristiano che ride, gravo. Cristiano Amoreschi per voi. Il nostro amico Antonio Trafuro, grande fotografo. Il nostro l'uomo dello staff, Luca Geri, che fa finta del pomio, guarda su i modelli, ha ragione. Il nostro Riccardo qua, che ridacchiamo, non si sa perché. Il nostro Andrea, che fa finta di fare foto. Ed ecco il nostro Paolo, un grande professionista. Vai Paolo. Ecco il nostro Paolo, un grande professionista. Ma lo stabilizzatore. Grazie. Grazie. Siamo nel backstage, ragazzi. Sì, backstage. Grazie. 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 Grazie.